Ciao, sono Matteo, ho 18 anni e lavoro da moda capelli. Quando ho scelto questa scuola ancora non sapevo cosa fare, ma dopo la prima esperienza di stage ho capito che era il mio lavoro. Mi piace capire la personalità del cliente per sfogare la mia creatività sui suoi capelli. Un giorno mi piacerebbe lavorare in un backstage di una sfilata di moda. Grazie.